0, 0 fisso, 0 profondo, 0 abisso, 0 cambiamenti, 0 permanente, 0 aspettative, 0 costante, 0 trasmissioni, 0 ricezioni, 0 connessioni, 0 per sempre, 0 per azioni, 0 come sul principio, 0 atalico, 0 come un vuoto di parole tipografico, 0 azione, 0 reazione, 0 relazione, 0 interazione, 0 il traguardo d'ogni sottrazione, 0 il tracollo della comunicazione, ogni terminale, in stasi terminale, sospesi in un silenzio siderale, senza più parole, cursori a boccheggiare, cimlici come pescina, acquari tiepili a cristalli liquidi, stasi cronica, cataclismatica, immobilità caotica, pausa del limitum, universale, multimediale, 0 lava, 0 terremoti, 0 onde anomali, solo schermi vuoti, isole lidati, scollegati a diacetti e mute, già dimenticate, fisicamente antiguo e non più raggiungibili, atolli inutili, naufraghi disabili, niente all'orizzonte, 0 segnali, 0 periodico, infiniti decennari.